Ciao, complimenti, che abbronzatura! Modestamente, di abbronzatura me ne intendo. Forse volevi dire che se ne intende lui. Ecco, vedi, ho la pelle come il dash, che più bianco non si può. E se vado al sole, ho paura di rovinarla. Ma no, ora ti spiego io come avere cura della pelle. Ciao, amici, l'estate è stupenda, le giornate sono più lunghe, il caldo ci fa sentire più liberi e finalmente ci esponiamo al sole. Ma la pelle ne risente. Sì, io divento rossa come un peperone. Un po' i raggi UV che la seccano, un po' il sudore che la lascia sempre lucida, un po' il vento, il sale del mare, il cloro, la disidratano. Insomma, la pelle è messa a dura prova e si vede. Lo vediamo noi allo specchio e lo vedono gli altri. Ma Simona, così mi fai sentire decrepita. Che fare? Niente paura! Oggi voglio condividere con voi un bellissimo segreto con le mie strategie di bellezza per la pelle e vi assicuro che non solo funziona, ma anche che ve lo ricorderete per sempre. Ma come mai? Scusa. Perché è un segreto bellissimo. Per avere cura della pelle in estate dovete fare così. Considerate la vostra pelle come un bebè. Ma cosa vuol dire questa trovata? Dobbiamo fargli fare il ruttino dopo pranzo? Non è una trovata, è un modo di pensare sano che porta ad applicare delle strategie sane per la salute e la bellezza della pelle. Bisogna pensare così. Di cosa ha bisogno un bebè? Di una mamma. Sì, ma una mamma. Cosa deve garantire al bebè? È semplice. Il bebè deve mangiare e bere, riposare bene, essere pulito, essere protetto ed essere coccolato. Ah vero, bei tempi quelli. Sì, e tutto questo va fatto alla nostra pelle. Ora vi faccio vedere come si fa a ottenere benefici per la pelle trattandola come un bebè. Vi è piaciuta questa visione della pelle? Sì, mi ha colpito e non me lo dimenticherò, no, davvero. Allora, mettete subito un bel mi piace. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E ora vediamo le mie slide con le strategie per curare la pelle, naturalmente. Sì, a tutti i nostri miei femalesali. Avete visto? La pelle è viva e va curata con attenzione. Il cibo e l'acqua sono fondamentali perché la bellezza della pelle riflette lo stato interno della salute. La protezione e i trattamenti esterni ne garantiscono l'integrità e l'aspetto curato. Ne ho già parlato in diversi video e per vedere tutti gli altri miei consigli sull'alimentazione sana e lo stile di vita salutare, iscrivetevi al canale, è facile, basta un clic così e attivate la campanella delle notifiche. Fatto! E quante info! In più, se volete essere anche voi portatori sani di salute, condividete questo video e vedrete tantissimi visi idratati e luminosi intorno a voi. Noi ci vediamo al prossimo video con tanti consigli e idee giuste per volersi bene, naturalmente. Ciao! Ok? She's so young! Ciao!